In primo piano l'Emilia Romagna, report sull'accoglienza migranti al top Ravenna, maglia nera invece per Rimini. 26 anni nordafricano è stato condannato a tre anni di reclusione per rapina, estorsione e minacce. Rimini è stato presentato il progetto per dare un nuovo volto a Piazza Malatesta e a Castel Sismondo. Ed infine lo sport con il volley, serie B maschile, Rovelli in Morciano ma anche il sorpasso del tie-break contro Città di Castello. Ben ritrovati con la nostra informazione, dunque questi i principali titoli del nostro telegiornale. In primo piano parliamo di accoglienza migranti. Un report per quanto riguarda l'Emilia Romagna vede al top Ravenna invece maglia nera per Rimini, maggiori particolari nel servizio curato per noi da Alessio Bertini. Il 37% dei comuni emiliano-romagnoni non ospita migranti, percentuale che vale 123 amministrazioni contro 211. La provincia più virtuosa è Ravenna, mentre la maglia nera va a Rimini con 15 sindaci su 25 che hanno detto no. A stilare la classifica è un dossier pubblicato dal quotidiano Repubblica che mette in fila tutte le province della nostra regione dopo l'appello del Lanci, l'associazione che riunisce i comuni perché tutti i primi cittadini facciano la loro parte e dopo che il Ministero dell'Interno ha deciso di ripartire i profughi su base comunale non più regionale. I dati di Repubblica provengono da un monitoraggio della regione effettuato con le prefetture aggiornato a fine novembre. E allora si scopre che la Ferrara di Goro, il paesino sulle foci del Po che si è ribellato ai migranti imposti, è in realtà nella media virtuosa della nostra regione. In Emilia-Romagna la maglia nera, lo dicevamo, va alla provincia di Rimini, l'unica dove la percentuale di comuni che non accolgono supera quelli che lo fanno il 60%. Va male anche a Parma, nella provincia ducale. Non ospita migranti il 46,7% dei comuni, 21 su 45. Va meglio a Modena, con il 42,6% di sindaci che hanno detto no, in gran parte quelli colpiti dal sisma del 2012. A seguire, potremmo dire, nella media virtuosa, ci sono Reggio Emilia, Ferrara, Piacenza e Bologna. In cima alla lista però la provincia di Forlice-Sena, con meno di un comune su quattro che ha detto no, e Ravenna che conta solo due piccoli comuni che non accolgono migranti. Rimini ieri momenti di tensione sulla linea ferroviaria a causa di un troll e sospetto che è stato trovato nella stazione Perune e anche per un investimento mortale avvenuto tra Modena e Bologna. Nella città romagnola il primo allarme è scattato intorno alle 8 quando gli agenti della Polfer è stata segnalata una valigia abbandonata sul binario 4. L'intera zona è stata bandellata e poi presidiata dal personale della Polizia di Stato facendo scattare il protocollo. In questi casi nel frattempo fra Modena e Castelfranco Emilia una persona è stata travolta dall'Intercity diretto a Bologna aggiungendo altre disagi alla circolazione dei treni. Gli artificieri dei carabinieri sono arrivati a Rimini intorno alle 12 per permettergli il controllo del troll e in tutta sicurezza la stazione è stata fatta evacuare. Con l'intera zona poi messa in sicurezza i militari dell'arma hanno ispezionato la valigia e dopo averla aperta si sono resi conto che al suo interno c'erano soltanto degli effetti personali di una donna dichiarando il cessato pericolo. Intorno alle 13.15 i treni nella tratta riminese hanno accumulato ritardi fino a due ore. Un grave infortunio sul lavoro avvenuto questo pomeriggio in un'azienda di lavorazione meccanica a Pietracuta di Salleo l'incidente si è verificato poco prima delle 15 quando un operario di 30 anni di nazionalità straniera per causa ancora al vaglio dei carabinieri ha riportato uno schiacciamento. Soccorso dal personale del 118 è arrivato sul posto con un'ambulanza e un'auto medicalizzata e il ferito è stato stabilizzato per poi essere trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. Ed ora torniamo a Rimi. La cronaca è stato condannato per rapine, estorsione e minacce a tre anni di reclusione in particolare in questo servizio. È riuscito a non farsi addebitare l'accusa più grave, quella di violenza sessuale ma è stato condannato a tre anni di reclusione per rapine, estorsione e minacce. Si tratta di un marocchino di 26 anni attualmente irreperibile e il cui ultimo domicilio conosciuto era Reggio Emilia. La scorsa estate aveva trascorso una notte nei locali della zona del Marano Riccione e qui aveva conosciuto una connazionale minorenne e nel corso della serata aveva più volte offerto alla 17enne alcolici e stupefacenti. I due si erano poi appartati sulla battigia ma alle insistenti attenzioni le 26 anni la ragazzina aveva opposto resistenza e questo aveva fatto arrabbiare il nordafricano. Secondo quanto ricostruito quella notte di luglio il ragazzo si era infuriato a tal punto che voleva indietro della 17enne 200 euro spesi per la droga e per gli alcolici. Per essere sicuro di riavere il denaro aveva sequestrato il cellulare della minorenne ma la ragazzina dopo aver spiegato i poteri a restituire soltanto 50 euro l'arrivo della madre era riuscita a fuggire insieme ad un'amica che si trovava insieme ad un altro ragazzo. Arrivate sulla strada, riporti il quotidiano online Reuni Today, le giovani avevano chiesto aiuto dai passanti ma raggiunte dal 26enne ne erano nate una serie di minacce con il nordafricano armato di un coccio di bottiglie. Sul posto sono arrivati i carabinieri che lo hanno arrestato. In un primo momento la ragazzina aveva raccontato dei pesanti approcci sessuali tanto da configurare anche il reato di violenza, poi smentito dalla stessa 17enne. E ancora la cronaca a Sant'Arcangelo di Romagna, una banda di malviventi. La scorsa notte ha messo a segno una spaccata ad essere preso di mira dai ladri come riporta il quotidiano online Rimini Today. È stato un negozio di bicicletti in via Andrea Costa che è stato depredato delle preziose due ruote ignoti dopo aver sfondato la vetrina. Hanno iniziato a fare razzia di quanto trovato a portate di mano seppur ancora in corso di quantificazione il bottino sarebbe ingente. È scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto una pattuglia dei carabinieri ma all'arrivo dei militari dell'armi i malviventi erano già fuggiti. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del colpo. Forlì, un uomo ustionato e due donne intossicate dal fumo. E questo è il bilancio di un incendio scoppiato questa mattina in un'abitazione a Malmisso. Le frazioni forlivese, le fiamme probabilmente dovute al malfunzionamento di una stufa sono divampate attorno alle 10 ben presto estendendosi agli altri vani della casa trovando esca fra il mobilio e gli oggetti accumulati. Il padrone di casa, 67 anni, ha tentato di spegnere le fiamme rimanendo ustionato al capo mentre due donne hanno inalato il fumo tossico sprigionato dal rogo. I vigili del fuoco intervenuti hanno spento non senza fatica l'incendio mentre i sanitari del 118 hanno soccorso i tre feriti. L'uomo è stato trasportato al centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalin di Cesena mentre due donne all'ospedale di Forlì con il codice di media gravità. Lo stabile è stato dichiarato inagibile. Ed ora torniamo a Rimini per parlare del progetto che darà un nuovo volto a Piazza Malateste e a Castel Sismondo, in particolare in questo servizio. Nuova veste per Piazza Malateste e Castel Sismondo. La giunta comunale di Rimini è dato di via libera al progetto esecutivo della Corte a Mare primo lotto dell'intervento di riqualificazione della piazza destinata a diventare in pochi mesi da parcheggio al luogo centrale della vita sociale e culturale della città. L'approvazione del progetto esecutivo consentirà di andare a gara, spiegano dal Comune, per l'affidamento lavori entro la fine dell'anno per traguardare nel mese di marzo 2017 l'inizio dell'intervento che il crono programma prevede a terminare in sei mesi. Contemporaneamente è in corso la definizione della proposta progettuale del secondo lotto a completamento dell'intero progetto di riqualificazione dell'area della Piazza Malatesta attorno a Castel Sismondo, previsti dal primo stragio. Col primo intervento, approvato, si interverrà lungo il perimetro della Corte a Mare delimitata dalla falsa braga costituita dal bastione poligonale che si interpone tra l'ingresso del castello e l'antico fossato mediante la realizzazione di aree verdi calpestabili e percorsi pedonali dove eredie la valorizzazione dei reperti archeologici. Il progetto complessivo, spiega la nota, è suddiviso in due lotti per importi di 950.750.000 euro da concludersi entro il 2017, entrambi già inseriti nel bilancio 2017 con una spesa di 1.700.000 euro. La gara d'appalto per la realizzazione della Corte a Mare verrà avviata entro l'anno 2016 per arrivare all'affidamento dei lavori e dar l'avvio all'intervento nel mese di marzo. Questo, ha spiegato il sindaco di Rimini, Andrea Agnassi, non è più un progetto ma l'annuncio di un cantiere, anzi di cantieri visto che in primavera, accanto ai lavori per la realizzazione del primo lotto in piazza Malatesta verranno avviati gli interventi attorno al ponte di Tiberio. Il 2017 giunge e vedrà la conclusione del Fulgor e la probabile conclusione del Teatro Galli. Nella nostra visione non c'è progetto singolo ma una visione complessiva di riceverso la prospettiva di accendere i nostri motori culturali che i qualificati, conclude, saranno capaci di attirare nei prossimi anni decine di migliaia di persone. Dopo l'entrata in vigore della legge regionale sul gioco con la quale la regione ha avviato un'azione di contrasto sono calati in Emilia Romagna gli introiti per le slot machine che comunque nei primi dieci mesi del 2016 hanno raccolto quasi 4 miliardi a rivelarlo gioconews.it che ha fatto un'elaborazione sui dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I punti vendita in cui sono installati i slot machine in regione sono 7.037 contro i 7.523 punti attivi nel 2014. Di questi 1.411 sono in provincia di Bologna contro i 1.489 risalenti al 2014 quando nel Comune erano 608 mentre i punti vendita di scommesse sul territorio regionale attivi nel 2016 sono 593 contro i 652 del 2014. Guardando la raccolta a livello regionale si è registra una montana di circa 1,89 miliardi nei primi dieci mesi del 2016 contro i 2,17 miliardi dell'anno precedente per quanto riguarda le new slot ovvero le slot machine da bar che permettono puntate da 1 euro e vincite fino a 100 euro. Andiamo avanti adesso parliamo di sindacati parliamo della CIS perché Massimo Fossati prima segretario generale della CIS Rimini fino al 2013 e poi del sindacato unico della Romagna ha deciso di lasciare la guida del sindacato prima della scadenza naturale e adesso si prepara il consiglio per decidere il successore in particolare nel servizio. Non sarà più il segretario generale della CIS di Rimini Massimo Fossati lascia in anticipo sulla scadenza naturale la guida del sindacato. Questo infatti sarà il centro del consiglio generale che si riunirà il 13 dicembre all'hotel Turing a Miramare di Rimini all'ora del giorno ci sono le dimissioni dal segretario generale di Massimo Fossati e le elezioni del nuovo segretario e della nuova segreteria. Le dimissioni di Fossati arrivano dopo un percorso sindacale che in questi anni, spiega la nota, lo ha portato a ricoprire dall'ottobre del 2003 al marzo 2013 primo ruolo di segretario generale della CIS riminese poi di quello di segretario generale della CIS Romagna prima organizzazione sociale costituitasi in area vasta unificando le tre unioni sindacali di Follicesena, Rimini e Ravenna. In Romagna la CIS rappresenta 82.000 iscritti il 56% dei quali sono lavoratori attivi a 103 operatori sindacali retribuiti altrettanti volontari e agenti sociali che operano nella categoria dei pensionati distribuiti nelle 48 sedi CIS a presidio del territorio romagnolo. Il lavoro svolto in questi 14 anni al vertice della CIS sono una già valida motivazione per innescare il cambio e la guida dell'organizzazione, spiega il segretario uscente. Tuttavia ho voluto con questa mia scelta di dimissioni anticipate rispetto alla normale scadenza favorire la costituzione di un nuovo gruppo dirigente in vista del congresso 2017. Sono stati anni non facili, aggiunge tanto più per un emiliano prestato alla Romagna e poi sottolinea un periodo in cui l'organizzazione è stata chiamata a misurarsi con una crisi economica durissima ad assumersi tante nuove responsabilità e raccogliere sfide sempre più impegnative. Gli investigatori della squadra mobile della questura di Follia hanno arrestato un 48enne pluri pregiudicato d'origine calabrese ma da anni residenti in città ha ritenuto l'autore di almeno quattro borseggi mesi a segno fra agosto e settembre in alcuni supermercati della città che avevano fruttato al malvivente banconote per 700 euro, diverse carte di credito e un cellulare. Era molto abile a far sparire il portafoglio dalle bolse delle donne, intente a fare acquisti l'analisi delle immagini registrate ai sistemi di videosorveglianza dei supermercati e nei pressi di questi hanno permesso di verificare come il ladro raggiungesse sempre in bicicletta i luoghi dove colpire e poi arrivare ad una sua identificazione e poi di arrivare ad una sua identificazione con l'emissione da parte del GIP Luisa del Bianco dell'ordinanza di custodi cautelare in carcere. Andiamo ancora avanti Prosegue il lavoro dell'Emilia Romagna nel centro Italia colpito dai terremoti il presidente Stefano Bonaccini ha inaugurato il polo scolastico provvisorio Seimone dei Magistrisi Caldarola in provincia di Macerata comune adottato dalla regione Emilia Romagna dopo le scosse di fine ottobre l'inaugurazione anche l'assessore della protezione civile Paola Gazzolo il sindaco Luca Maria Giuseppetti il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli il capo della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio Caldarola si affianca così a Montegallo in provincia di Ascoli Piceno paese vittima già del sisma del 24 agosto e dove la protezione civile dell'Emilia Romagna ha costruito in soli 17 giorni la cittadella dell'Emilia Romagna conto centro polifunzionale nel quale hanno ritrovato una sede il municipio, la scuola, la chiesa, l'ambulatorio i carabinieri e anche il corpo forestale dello Stato e adesso apriamo la pagina sportiva parliamo delle volley maschile serie B la Rovelli-Morciano ma anche il sorpasso al tie-break contro città di Castello ci racconta tutto meglio nel servizio Veronica Lisotti vediamo non riesce il blitz alla dolciaria Rovelli-Morciano che nell'ottava giornata di campionato serie B manca il sorpasso al tie-break consegnando la vittoria alla città di Castello, Perugia i cioccolatieri scendono in campo con Ferraro in versione libero al posto dell'influenzato May il nuovo acquisto Cristian Sacco posto palleggiatore Costanzi banda Spinelli e Andreatta centrali Caselli e Rasomban la disamina del match di Riccardo Costanzi palleggiatore biancorosso è stata una bella partita abbastanza tirata dove abbiamo vinto noi il primo set i primi due set diciamo che sono stati abbastanza equilibrati il primo l'abbiamo vinto noi e il secondo loro il terzo abbiamo imposto il nostro gioco vincendo 25 a 12 o 13 comunque si abbiamo espresso al massimo il nostro gioco il quarto set è stato uno di quei set dove ti mangi i gomiti perché eravamo avanti 22 a 19 e ci siamo rilassati un po' troppo e sono stati bravi loro a mantenere alta la concentrazione ad andare avanti e hanno ad aggiudicarsi il set ai vantaggi 27 a 25 quinto set noi siamo rimasti purtroppo disconnessi e loro hanno si sono aggiudicati i due punti e noi ci siamo ci continuiamo a mangiare i gomi di questa settimana per quel quarto set bene il telegiornale termina qui subito dopo la sigla il nostro focus dedicato alle vacanze sulla neve e poi la nostra consueta rubrica del venerdì dedicata ai consumatori la borsa della spesa vi ricordo inoltre che i nostri contenuti possono essere consultati anche online andando all'indirizzo www.telelimini.it dove è possibile seguire in diretta streaming anche il nostro telegiornale bene con questo è davvero tutto grazie e come sempre per la cortese attenzione l'appuntamento è domani se il buongiorno si vede dal mattino qui a Folgari da Marileva la stagione scistica è già iniziata per il Ponte dell'Immacolata sono venute tantissime persone in cerca delle piste perfette sì certo il Ponte dell'Immacolata è un momento molto importante perché è la prima festività di dicembre noi siamo pronti e vedo che anche i nostri clienti sono pronti perché sono venuti da tutte le parti tanti italiani però anche tanti stranieri quindi piena soddisfazione che veramente in questi ultimi giorni abbiamo lavorato giorno e notte per preparare questo demagno sciabile che collega Folgari da Marileva in Madonna di Campiglio e devo dire che siamo stati premiati e i nostri ospiti ci sono per sciare ma anche per divertirsi quel comprensorio scistico Folgari da Marileva è uno dei più grandi qui del Trentino occidentale la Val di Sole è famosa anche per le bellissime giornate di sole sì certo è uno dei più grandi infatti noi diciamo abbiamo un comprensorio che collega tre ski resort quello di Folgari da Marileva quello di Madonna di Campiglio e quello di Pinzolo 150 km di piste dove il cliente va a pernottare in Val di Sole nei tantissimi alberghi lascia lì la macchina entra a sciare e ne ha per una settimana intera perché siamo veramente con tanti impianti e tante piste per questo ponte ci sarà anche una novità all'Apriski in quota sì certo la novità di quest'anno è quello di dare la possibilità di sciare ma anche di divertirsi dopo ecco quindi che sabato sera la prima serata di Apriski a 1850 metri ci si diverte si beve e poi si scende giù con un comodo impianto illuminato in tutta sicurezza qua su nella Val di Sole non ci si ferma mai so che state già preparando le festività natalizie e poi le settimane bianche certo bisogna sempre pensare al dopo abbiamo acceso l'albero di Natale che sia un buon auspicio per vivere bene questo periodo a Natale tra l'altro dal 20 c'è anche una promozione Natale in famiglia con una formula posto letto quindi soggiorno in albergo e schippa scompreso fino al 26 di dicembre e poi ovviamente il periodo clou che è quello che va da Natale a Capodanno all'Epifania dove diciamo i nostri connazionali italiani fanno da padroni sono a casa loro qui